Abbiamo vinto ragazzi, abbiamo vinto, porca puttana abbiamo vinto Madonna mia ragazzi, madonna mia ragazzi, siamo primi in classifica, siamo fottutamente primi in classifica Siamo in 22 punti insieme al Pisa che domani dovrà giocare va bene tutto quello che cazzo vi parla ragazzi Porca miseria Intanto siamo primi, siamo primi ragazzi, sono veramente troppo ma troppo felice Avevo fatto il video, 15 minuti di video, non me l'ha preso, cazzo non me l'ha salvato, vaffanculo lo rifaccio Raga oggi abbiamo fatto una partita, una partita della madonna Cioè vinciamo contro il Cosenza, vinciamo il derby in casa loro Nonostante il nostro pubblico non poteva esserci tutti quanti ma solamente alcuni Abbiamo vinto lo stesso, una partita difficilissima Abbiamo vinto alla grandissima con gol fottutamente di Montalto Sono troppo felice, troppo felice che ha segnato perché se lo merita ragazzi, se lo merita fin dal primo minuto Lui come tutti gli altri giocatori perché io non chiedo che devono segnare il rovesciata, tacchi, tunnel, contro tunnel Io voglio che chiunque ha la maglia della regina addosso deve giocarsi l'anima e deve giocarsi la vita Poi ci sta raga, oh abbiamo perso contro il Cittadella, ci sta assolutamente, ci sta abbiamo perso, va bene Comunque mi dispiace che non ho fatto il video però ragazzi praticamente non ho visto la partita E sono arrivato alla fine che ero distrutto, non ho proprio avuto il tempo di guardare la partita E quindi vaffanculo, non l'ho fatto per sbaglio, cioè è peccato perché comunque volevo farlo il video E mi dispiace che non l'ho fatto comunque oltre quello Poi ragazzi non ci fa niente, perdiamo contro il Cittadella, va benissimo, va benissimo Però poi quando giochiamo contro il Cosenza, la partita dopo, già mentalmente dobbiamo essere già pronti Dobbiamo vincere lo stesso, non dobbiamo abbattere, come cazzo si dice Vabbè avete capito Comunque ragazzi veramente la regina parlando seriamente, la regina ha un organico davvero Mamma mia, ma qualcosa di allucinante Tutti oggi hanno fatto davvero una partita favolosa A partire da Chrisetig, Bianchi ho già fatto una partita stupenda La difesa anche benissimo, veramente ragazzi, tutti quanti, bell'uomo Mamma mia, bell'uomo, quanto è forte ragazzi, quanto cazzo è forte veramente bell'uomo Ragazzi io non ho parole, cioè sta facendo veramente qualcosa di inimmaginabile bell'uomo ragazzi Sta veramente facendo qualcosa di inimmaginabile Adesso ragazzi siamo primi, domani il Pisa va bene, deve giocare, perfetto Va benissimo, ma ragazzi, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che siamo lì Ma ci rendiamo conto che per tre mesi se perdiamo tutto ancora siamo nei playoff Poi vabbè ora sto scherzando, cioè nel senso è un esempio Ma se continuiamo veramente così, giochiamo come cazzo stiamo giocando le ultime partite Veramente ragazzi non c'è cazzo per nessuno, io continuo a dirlo Ogni volta che lo dico non c'è cazzo, niente per nessuno Comunque ragazzi, adesso dopo che ci ho messo mezz'ora per fare questo video In più devo ancora editare tutto quanto Devo uscire perché è venerdì sera, voglio andare a ballare, vaffanculo Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale, lasciate un grandissimo commento qua sotto E soprattutto like che a me mi aiuta veramente tantissimo E da bello reggine tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao, 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 ciao